Ciao a tutti ragazzi di FG on Demand Siamo nel... Non siamo qua, non sono mai stato qui Aspetta, allora fai così adesso Aspetta, rinforza i muri, ha il Capkan Cosa fa il Capkan? Ah, lo mette... Bravo! Leverkan Basta, lascia fare loro questo lavoro sporco Tu vai a mettere le bombe Tipo, no, lì? No, no, qui no Là Vai avanti, chiudi sta porta Chiudi questa Chiudi la Esatto, chiudi Eeeh, chiudi... Sì, ma non ti mettesi, vai avanti là Chiudi questa porta, chiudi la Chiudi la veloce, 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 veloce E metteci la booby trap in basso Sì, 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 sì Booby trap in basso Non lo so, forse sì, mettila, mettila veloce e va bene E mettila anche in questa No, no, la sembra la barricata prima Ok, bravo Booby trap, booby trap, booby trap Barricade up! Io la metterei più in basso, però vabbè Vai avanti Attenzione, li ha being spotted, vai via, vai via Occhio, è lì fuori, occhio, occhio, occhio L'hai ucciso, abbassati, abbassati quel control Ok, perfetto Un gran calma, Rinnegan Sai che potrebbero uscire da lì Oh Preparati la nitrocella con la G Botta lì la nitrocella al bastardo Aspetta che entri lui Eh, aspetta Con la G Oh, l'hai visto? L'hai visto dov'era? Potrebbe entrare dalla finestra a tua destra Vedi che ci sono delle finestre a tua destra Boh, non mi fido di loro Oh, fugza Non mi fidavo di loro Però questo l'ho ucciso Il punto è questo Che se tu rimani chiuso in una stanza Sei in una trappola per topi Ma che sfigato Oh, ma quando Rinnegan giochi in una squadra Aumenta il valore di quella squadra Allora, lo sledge si muove veloce Quindi tu butti giù Dai una controllata e scappi dentro e corri No, no, forse... Forse non hai capito Io voglio rompere tutto E vuoi via? E va, vado via Ok Vai tu dove vuoi, non cambia nulla Vai dove vuoi Sai dove sono gli obiettivi Eh... Oh Lui è andato per su Potresti anche tu andare per su Tanto c'è lo sledge Rompi tutto Questi non li puoi rompere queste finestre Non li puoi rompere Non li puoi rompere Non li puoi rompere Andiamo... Andiamo avanti Potresti... No Non puoi calarti qua Potresti andare a destra Vai a destra Perché entri da sotto? Tu vuoi entrare da sotto? Perché vuoi entrare da sotto? Ah la telecamera è qua davanti a te Lì Esatto Rompila Grazie Vai avanti E puoi calarti qua tipo Ma allora adesso sono qua Vabbè sti cazzo Non buttati Ecco vai a salvarlo Esatto Adesso lo rianimi Grazie Ecco Dili che è un coglione No Ho fatto anch'io il tuo stesso error Un tempo anch'io ho fatto il tuo error Ero forte un tempo Ero forte un tempo Ero forte un tempo Scusa Vogliamo entrare? Vedi ora sono qui dentro Vedi Entra Loro sono nella tua Alla tua sinistra Per entrare Per buttare giù quella porta la Non quella Quella a tua sinistra Vedi che c'è una porta Non più la porta Fai di paura Occhio però che mi hanno sparato Tranquillo Non ti hanno sparato Vedi che la No perché no Entra dalla porta Entra dalla porta di destra Esatto Entra qua Spacca tutto Entra Tanto non c'è nessuno Te lo dice il Taylor Vai a sinistra Sono a sinistra loro Loro sono là dentro Potrebbero essere là dentro Però non li vedo Tira una granata così butti giù il Rompi l'elettrico Capito? Ma sul muro o sul forno? Lì sul filo spinato Così rompi sia il filo spinato Ma dove l'hai tirata? Non lo so Ok vedi Barbed destroy Vedi adesso tu hai rotto sia il Vai 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 Entra piano però Entra piano Entra piano Lì che lì che lì che lì che lì che lì che ammazzalo Oh l'ammazzi Ma cazzo ma sparagli Ma gli ho sparato Si che l'hai sparato Hai poca vita Ma noi prendevano anche il colpo Sparalo Ma scusami Ma hai visto che gli stavo sparando? Si ma siccome lui è Rook Ha l'armatura più pesante Dovevi sparargli più colpi Magari la prossima volta sparargli in testa no? E cazzo ti ho fatto fare tutto bene Hai distrutto anche il filo spinato Hai distrutto l'elettricità Vai lì Cazzo ammazzalo Lì esatto Perché loro qua potrebbero entrare Cosa fai? Non devo mettere Abbassate la classe visuale Ok metti la F Ah se guardo troppo in alto non va bene Non la mette Mettila in basso quella roba lì Più in basso Lì Ecco esatto Questo è il punto più basso in cui la puoi mettere Perfetto Anche Vedi sta potendo Attento Ti vieni distruggere quel cazzo di drone Distruggilo Vedi perché devi distruggere quel drone Tu hai buttato giù la tua Sai che hai distrutto la tua Non l'ho distrutta io L'ho distrutta lui Dove cacchio è? Devo chiudere con questa giusto? Sì Chiudila e metti qua E che ne è solo una adesso Mettila qua dai Non so da dove entrano Mettila qua Perfetto Prendilo Prendi il Kevlar Vedi che c'è il Kevlar lì Prendilo Attenzione Potrebbero entrare da lì Infatti un è morto lì Occhio Vai via da qui Vai via da qui Alla tua sinistra potrebbero entrare Vedi da lì E alla tua destra Quindi smettiti la dietro La dietro esatto lì Esatto Lì esatto Hanno messo le bomba a subì Hanno messo Fai tanta attenzione adesso però Eh Buttala giù con la nitrocella Cosa? La porta Attento lì E' lì il defuser Ah il te la stai Piano piano Vai Vai anche tu Vai anche tu Disabilita il coso tu Disabilita il Oh occhio Tra gli mani per cielo L'hai ucciso L'hai ucciso Falle esplode la cazzo Non te le frega L'hai ucciso in un altro? Attento che è lì fuori No bomb Ah distruggila Distruggila non hai tempo Distruggila Eh vabbè Non avevi comunque tempo Non avevi comunque tempo Non avevi comunque tempo Eh ma c'è Black B No Avete sbagliato perché si sono messi tutti sul punto A Trova il trova Trova le bombe Attento che c'è quello a fare lì che è il mute Allora qua vedi che loro hanno messo Sono chiusi tutti in una stanza Come una trafola per topi E hanno le finestre in legno Cosa che tu puoi distruggere facilmente Allora la tua Quando tu arrivi qua fuori Alla tua sinistra c'è una telecamera No no Sbasso Vai avanti Ah non Scusa dall'altra parte Allora vai giù Perché hai tu dall'alto tu? Ma cosa fai lì? Ma guarda questa pensazione di distruggere cose Faccio rumore così loro pensano che arrivi da lì Sì ma loro sono giù Ah Non sono in alto Loro sono nel piano sotto Quella barricata non l'hai buttata giù Comunque vabbè vai dentro di qua Vedi se c'è una bottola per entrare magari Vai alla tua destra E vedi in basso se c'è una bottola Vedi che loro sono Là sotto no? Cazzo Hanno perso Abbiamo perso il defuser Dove? Dove? Occhio che c'è Attenzione la vedi Loro hanno un operatore Che segnala la posizione tua Quindi loro sanno che sei qua sopra Però potresti entrare giù da lì Magari dai uno che attacco il drone Col sai butti il drone Esatto Girati adesso Ok loro qua non ci sono Quindi tu potresti scendere E buttare E entrare Che i muri sono distruttibili Per attenzione eh Quei muri alla tua sinistra Sono distruttibili Sì quelli Però vedi Non hanno preso Potresti buttare giù Col martello o con la granata Fai di tu Eh ovvio Per il martello Attenzione C'è nella tua sinistra Loro sono alla tua sinistra Butta giù il muro di sinistra Quello Attenzione eh Ok loro sono là dentro Lì c'è una cosa Uno scudo che potresti buttare giù Con la granata Eh oppure buttare giù anche qua Per te Ci sta Vedi se tu avvi il defuse Adesso qua potevi piantare la bomba Capito Sarebbe stato utile Uh distruggi la telecamera Lì in alto Distruggila con la roba lì Occhio Occhio che sanno che sei qua adesso Cosa fa quello lì? È matto C'è rimasto uno? No quello la distruggi con la V Ok bravo Attento che c'è caveira Non c'è solo uno Vai fuori e prendi quel cazzo di defuse Porca puttana Sono super le scale sono Vai a prendere il defuse e pianta la bomba Cioè da solo cazzo Occhio lì lì occhio Oh Oh Che cazzo bravo Ho visto tranquillo C'è sparata tutto È bello che Rinnegan Guarda Non vede il caveira Spara prima Ho visto l'attiva Per quello sono tornato indietro Ho visto l'attiva Per quello sono tornato indietro Bravo Rinnegan Bravo Ma hai capito cosa sta facendo lei? Si sapeva che il defuse era lì E stava mirando sul defuse Solo che non si aspettava che uno arrivasse dalla sua sinistra Vabbè ragazzi Se vi è piaciuto lasciate tanti e mi piace Rinnegan Adesso deve solo imparare a sparare alle persone Non a giocare con loro Oh uccidere soprattutto Esatto Ciao a tutti E al prossimo video